oggi respiro però respiro non dico con affanno ma con un po di una parola che incomincia per in che galas mi dice che non posso dire che normalmente la dicono i giovani a dire la verità sono un po incazzato morta la la vignuda se vuole la cancelli faccia quello che vuole si sono un po incazzato perché questo referendum queste elezioni mi hanno mi hanno disgustato ecco mi hanno mi hanno credo di averlo già detto io ho votato sì anche perché credo questa volta mi auto incenso credo di essere uno dei pochi che ha letto le 350 pagine che mi ha mandato il mauro ottobre l'onorevole sul dibattito che c'è stato in parlamento a proposito di questo referendum che era partito eliminazione del senato sia chiaro a tutti erano partiti con l'eliminazione del senato poi tira butta molla spingi paga non paga correnti contro correnti raffreddori tossi e robe del genere è venuto fuori quel pataracchio un po che è venuto fuori non era poi così catastrofica la cosa e soprattutto la cosa che mi ha fatto male è vedere la differenza di voto tra l'alto adige e il trentino allora la voce che girava dappertutto e purtroppo il pat era un po dominante in questa situazione e mauro ottobre bisogna dargliene atto ha detto sì bisogna votare sì e ha fatto un dibattito con delai e compagni per il sì ma il vedere che il 73% dico il 73% di quelli di quelle persone dell'alto adige di lingua tedesca che hanno votato sì e da noi 54% senza aver letto niente perché nessuno ha letto niente ma Renzi è il garantipatico si la toscana parla lì non parla mia come noi altri e allora noi ho pensato ho pensato guarda noi guardiamo Renzi come il tagliam che parla e i todeschi dell'alto adige e io pensavo anche i trentinini quei terroni trentinini che noi capis niente gli ha votato no perché l'è successa così è successo che gli altoatesini ci hanno considerato come noi consideriamo i toscani e i napoletani los fontrien c'è qualcuno che se lo ricorda los fontrien quindi lì abbiamo fatto una figura di cacca mi spiace per i signori che hanno votato no così perché se no l'autonomia perdevamo l'autonomia allora o gli stupidi quelli dell'alto adige o siamo stupidi noi ma l'altra cosa che mi ha avvilito è quello che è successo nell'ambito del partito di Renzi ecco l'ho trovata una cosa disgustosa allora due componenti di questo partito Bersani e D'Alema hanno fatto un movimento contro il proprio partito per salvare l'Italia salvare il partito perché se fosse passata quella costituzione moriva in tutti succedeva qualcosa e soprattutto ci sarebbe stato un uomo solo che comanda ma vada da chi da chi va in la predica da D'Alema che le sta levato sotto le grinfie di Stalin e compagni e Bersani che l'era del partito comunista cioè dove comandeva un sol e che se che diceva vada che quelli le nero ma te devi votare bianco i voteva bianco ma ditemi se è vero o non è vero i voteva bianco anche se l'era nero perché il partito aveva dato questo ordine e i loro due due scienziati mi hanno semplicemente fatto pena non posso dire di così ma fa pena mi hanno fatto pena perché due persone così che fanno parte del partito dove c'è dentro un giovane di 42 anni che il fa del tutto per trasferire un po' di simpatia hanno fatto un movimento contro il proprio partito e gli è andato in giro a dire votati no io ero molto soddisfatti anche io credo che oggi però oggi però questi due signori mi se fosse a Renzi il butto fuori dal partito come uno e uno fa due aria che vadano con la sinistra che vadano dall'altra parte che va col sel contro sel quel chivollori ma non nel partito dove si sono comportati in quella maniera perché sarebbe la stessa cosa che i figli facessero una battaglia contro il padre oddio capita di tutto su questa terra però è una cosa che non mi è piaciuta non mi è piaciuta adesso li voglio vedere perché che cosa è successo? che i no nel 40% ma il 40% di un gruppo fermo che è quello del PD o quel gruppo lì perché Berlusconi la vota no mi non posso dire a capovedere perché è tutto tirato lasciamo perdere e Salvini vuole uscire dall'euro e io dall'euro a dire la verità non voglio uscire perché mi viene sempre in mente quando giravo con la lira che ero considerato un pezzente da quando c'è l'euro, l'ho già detto in un'altra trasmissione quando sono andato in giro per il mondo nei viaggi che faccio ogni tanto con l'euro vado benissimo perché non vogliono neanche più il dollaro vogliono l'euro Salvini preferisce tornare all'Italietta di una volta e io non ci sto la Meloni ho sempre paura che salta fuori ai occhi fuori dalle orbite allora non so fisicamente non è anche non so e il 5 stelle allora adesso sono un 60% ma se dovessero votare come va a finire la storia? ah io non lo so veramente non so non lo so perché vogliono il proporzionale perché non vogliono l'Italicum con il doppio turno hanno capito che col doppio turno alla francese tra il PD e il Movimento 5 Stelle probabilmente vincerebbe il 5 stelle e gli è venuto a tutti il pippa e non dico che cosa pippa paura che vaga sul 5 stelle allora hanno detto no l'Italicum non ce ne parla gli altri si torna il proporzionale poi nel proporzionale non vogliono insomma guardate io molte volte non so più cosa dire perché sono demoralizzato poi mi consolo visti i miei 90 anni dico puttai guardate gai l'arterio mia moglie poi la madre sta attento di non dire magari sciocchezze spero di non aver detto sciocchezze e io concluderei qua però però mi piacerebbe mi piacerebbe vedere le lezioni col proporzionale allora vince il primo 5 stelle i primi 5 stelle però non hanno la maggioranza assoluta e allora devono andare con chi vanno la Lega probabilmente ma non basterà allora dovranno andare a pietire da Berlusconi o pietiranno da Meloni o pietiranno da non so chi il PD cosa farà guardate non lo so io sono convinto che se noi avessimo votato tutti sì avremmo una situazione diversa sarebbe uscito probabilmente un senato che non era perfetto perché c'era la provincia non veniva toccata perché c'era quell'articolo ve l'ho detto cento volte che diceva se nessuno dei due autonomi e governo sono d'accordo non si possono toccare le autonomie e mai più uno va a tagliarsi le palle per fargli un displetto alla moglie e va a dirgli meno voi l'autonomia quindi era talmente logica che l'autonomia non si poteva toccare perché se il governo diceva la levo noi dicevamo di no non si poteva toccare quindi non c'erano dubbi su questo e allora vedremo spero la prossima volta di respirare ancora e vi saluto cordialmente